Colpo grosso per il nuovo Castelnuovo Garfagnana. Entra nella famiglia e nel progetto societario un personaggio che ha fatto sognare con i suoi gol diverse squadre professionistiche, tra cui la lucchese. Parliamo di EU Premio Carruezzo per tutti il grande Tony. Sarà lui il nuovo direttore tecnico di tutte le squadre dell'Unione Sportiva Castelnuovo e a lui faranno riferimento i vari responsabili tecnici di settore come Alessandro Moriconi e Gigi Grassi. Tony, che crede fortemente nella crescita e nella formazione dei giovani calciatori, oltre a supervisionare tutte le squadre sarà anche il nuovo mister della categoria giovanissimi 2010. Carruezzo sarà presente mercoledì 19 giugno a Gallicano in occasione di un open day congiunto organizzato dalla società gialloblu insieme ad altri professionisti per supervisionare tutti i partecipanti. Carruezzo è uno dei più titolati attaccanti della Serie C italiana e della lucchese con oltre 180 reti all'attivo. Dopo la lunga e proficua carriera da calciatore ha intrapreso quella da allenatore guidando tra le altre primavera e formazione femminile della lucchese.